All'Ungheria di Viktor Orban tende la mano la Croazia di Zorana Milanovic, che in visita di Stato questo venerdì a Budapest, senza troppi giri di parole, ha accusato Bruxelles di prendere una posizione politica nei confronti dell'Ungheria, contro cui l'esecutivo comunitario punta il dito per violazioni dello Stato di diritto. Il rapporto che si è venuto a instaurare tra Unione Europea e Ungheria è piuttosto irritante. Oggi tocca l'Ungheria, domani è un altro paese più grande cui bisogna dare una lezione. È stato il caso della Polonia fino a ieri, oggi invece, vista la posizione polacca nei confronti dell'Ucraina, la Polonia è magnifica, ma domani saranno nuovamente additati. Incontrando il suo omologo, la signora Katalin Novak, Milanovic ha detto ancora di non capire l'atteggiamento di Bruxelles, che incrina piuttosto che rafforzare l'unità dei 27. Milanovic è stato eletto nel 2019 nello schieramento liberale di sinistra, da allora, secondo molti, ha assunto posizioni vicine ai sovranisti.